Il registro è ovviamente fondamentale perché se non sappiamo di che numeri stiamo parlando, se non sappiamo come sono distribuiti i pazienti, chiaramente non possiamo fare una corretta allocazione delle risorse, in primis della risorsa sangue. Il registro è poi essenziale per una corretta programmazione sanitaria, anche pensando alle nuove terapie che stanno arrivando in questo periodo particolarmente fertile. La rete è fondamentale perché, come dicevo, i pazienti sono seguiti in centri che hanno delle caratteristiche diverse e quindi al momento non hanno tutti le stesse opportunità, perché soprattutto quando diventano grandi la patologia è talmente complessa che necessita di un team multidisciplinare e quindi di percorsi strutturati in assenza di rete, che è rete tra i percorsi, tra i centri più o meno dedicati, più o meno esperti di emoglobinopatia, ma è anche una rete tra i centri di emoglobinopatia e i professionisti che si occupano delle varie complicanze di questa patologia, dicendo, dicevo, in assenza di rete i pazienti non possono essere seguiti nella maniera ottimale. Ecco perché l'aspettiamo tanto.